Per te oggi è una giornata speciale, ti sei tolto belle soddisfazioni, ma fino a poco tempo fa stavi a Napoli. Sì, riguardo alla partita di oggi, nella West Abia, mi sono tolto veramente belle soddisfazioni. Riguardo a Napoli, comunque lì ho vinto il campionato, un po' di amarezza che comunque è andato via, perché comunque essendo napoletano un po' di amarezza c'è. Vabbè, che comunque rimani nei dintorni, Napoli non è poi così lontano e tu ovviamente la segui sempre da vicino. Sì, quando posso vedo sempre Napoli e spero che faccia bene, comunque penso che Napoli sta facendo un grandissimo campionato. Secondo te qual è la ricetta vincente di questo Napoli? Secondo me la mentalità, adesso tutti i giocatori ci credono a quello che fanno. Sono quattro anni e comunque cambiano poco, penso che tutti hanno preso la stessa mentalità. Ti senti di fare qualche nome in particolare che fa la differenza o secondo te è il gruppo la forza? Il gruppo vuol dire tanto, poi se devo fare qualche nome c'è Lavezzi, c'è Amsic, ci sono tanti giocatori che possono fare la differenza. Vedi la classifica, vedi i risultati, secondo te il calcio italiano sta cambiando? Sì, è più bello, comunque sono in 5-6 squadre a lottare, penso proprio di sì, sta cambiando.